Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Come proverbialmente usa dire, errare è umano, perseverare però è diabolico. E credo che davvero, dopo il discorso agghiacciante di ieri in Senato di Mario Draghi, non sia più concesso, se non a chi è diabolico, di perseverare. Tutti dovrebbero ora aver chiarito fino in fondo alla propria coscienza che ogni vero patriota democratico non può non opporsi a questo governo capitanato da Mario Draghi, giacché esso rappresenta il non plus ultra dell'inimicizia rispetto alla democrazia. Di più, non è un governo, è il commissariamento dell'Italia da parte di Bruxelles e della Troica. Nel suo agghiacciante discorso Mario Draghi ha subito inquadrato la questione dell'euro. Si badi in tutto il discorso di Mario Draghi, e non può certo essere casuale, non vi è stato un solo riferimento alla Costituzione italiana. Un chiaro segnale, dicevo, del fatto che non è quello il riferimento attorno al quale si strutturerà l'agire del governo di Mario Draghi. Non è la Costituzione italiana il suo valore di riferimento. Al contrario, ha specificato Draghi in tre passaggi significativi quanto segue. In primo luogo ha detto testualmente che questo governo nasce nel solco dell'appartenenza all'Unione europea. Appunto, secondo le parole di Draghi, appartenenza all'Unione europea, non alla Costituzione italiana. Secondo punto, parola di Mario Draghi ancora, sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro. Chiara traiettoria per tutte le forze politiche che lo supportano, ivi comprese ovviamente quelle che si autodefinivano sovraniste e populiste e che ora si scoprono in forma miserrima, subalterne rispetto a un governo che proclama l'euro come irreversibile. L'euro, l'ho detto e lo ridico, è un metodo di governo liberista che implica la subalternità della politica all'economia e quindi anche l'indebitamento dello Stato sovrano nazionale, che sovrano non è più, rispetto alla Banca centrale europea. Terzo punto, chiarito dall'euroinomane più impenitente Mario Draghi, gli Stati nazionali devono cedere sovranità nazionale. Nulla di più chiaro quindi a proposito della traiettoria indicata da questo governo nemico della patria e subalterno rispetto a Bruxelles. D'altro canto Draghi ha chiarito anche in tema di desovranizzazione il rapporto dell'Italia con Washington, ribadendo a pieso spinto il fatto che l'Italia si colloca nel solco della linea dell'atlantismo. NATO e Washington. Queste le parole chiave a cui bisogna far riferimento per capire ciò che sta avvenendo. Ebbene, si consideri ancora un aspetto direi davvero tragicomico. Nel 2018 gli italiani con il loro voto andarono a esprimere essenzialmente una forma di opposizione rispetto all'Unione Europea e all'euro, votando forze dette sovraniste, populiste come la Lega e soprattutto il 5 Stelle. Ebbene, ora nel 2021 gli italiani, senza essere più tornati a votare, si trovano un governo con Mario Draghi che fa loro la lezioncina sul fatto che l'euro irreversibile occorre cedere sovranità all'Unione Europea. Il bello, se così si può dire, è che continuano a chiamare democrazia la decisione sovrana dei ceti dominanti e in questo caso addirittura il commissariamento dell'Italia opera della Troica e dei tecnocrati di Bruxelles. In un passaggio interessante Draghi ha poi detto con preoccupazione che la Russia viola spesso i diritti dei suoi cittadini. Curioso davvero che si dica ciò in relazione alla Russia fingendo che la violazione dei diritti e delle libertà dei cittadini stia avvenendo in Italia e nell'Unione Europea da ormai almeno un anno, a colpi di lockdown, di limitazioni delle libertà fondamentali e nel caso italiano anche dei principi della Costituzione. L'ipocrisia di certi discorsi davvero è sconcertante.